Sono Serena Missori, medico-chirurgo, specialista in endocrinologia e diabetologia, mi occupo di nutrizione funzionale, biotipizzata e sono autrice di 13 libri più un quattordicesimo in uscita. Sono felicissima di dirvi che faccio parte del comitato scientifico della scuola di alta formazione in epigenetica, biofisica, nutraceutica e nutrizione scuola alla quale dovreste iscrivervi anche perché all'interno della stessa io tratterò di endocrinologia funzionale facendo capire agli iscritti quanto sia importante un approccio a 360 gradi alla persona attraverso la biotipizzazione morfologica e come questa possa fare assolutamente la differenza nella gestione delle più svariate problematiche di salute. Un approccio integrato oggi è assolutamente fondamentale per poter garantire alle persone reale benessere e salute. E' un recupero di una salute persa, un pochino dimenticata, attraverso l'utilizzo di alimentazione funzionale, nutraceutici, diagnostica avanzata anche da un punto di vista epigenetico per far sì che si possano gettare le basi dei veri pilastri per la salute a 360 gradi.